La dolce vita di Federico Fellini e Leo Catozzo tra sogno, magia e realtà, porte aperte allo storico Palazzo Ruspoli di Nemi fino al 13 novembre per una nuova esposizione che evidenzia il sodalizio di due grandi protagonisti del cinema italiano del dopoguerra. Una mostra artistica e documentale che prende avvio dalla celebrazione del centenario della nascita di Federico Fellini per ripercorrere la storia inedita per molti versi di un rapporto professionale e personale tra l'indimenticabile regista riminese e Leo Catozzo, tecnico del montaggio dei suoi film più importanti ma soprattutto suo confidente e amico. Organizzatrice di questa estemporanea è l'Associazione Culturale Caluemare con la direzione artistica di Fabio Alescio. In questi giorni a Palazzo Ruspoli di Nemi trovate tantissimi reperti e trovate una storia straordinaria, una storia di amicizia fatta di racconti, di lettere, di disegni, di caricature, di oggetti che raccontano una storia bellissima. Loro erano anzitutto dei grandi amici e poi con il primo film, La strada, con questo primo film hanno cominciato a lavorare insieme. Poi si sono trovati bene insieme e hanno continuato fino a quando papà ha cominciato a commercializzare la giuntatrice, la pressa Catozzo e allora ha dovuto per forza seguire la produzione. Peccato perché ha rinunciato a quello che lui amava di più, insomma, al cinema. È proprio dal prezioso archivio privato del figlio di Leo Catozzo Alberto e della sua famiglia che provengono alcuni degli articoli che rendono un unicum questa celebrazione del genio di Fellini. Materiali inediti, corrispondenza privata, bozzetti originali e i disegni che i due amici si scambiarono per anni. E ancora locandine, ciacco originali, sceneggiature con le sue correzioni e poi la moviola originale e la famosa pressa Catozzo. Tutto nello scenario suggestivo di Nemi. Un pezzo di storia importante dove non solo scopriamo l'arte e la capacità degli artisti nella recitazione e nella scenografia, ma la cinematografia italiana ha fatto scuola anche nel montaggio e con Catozzo scopriamo oggi una chicca dietro le quinte che veramente dà ancora una volta di quanto il popolo italiano sia così ingegnoso. Ma si torna a fare cultura con questa bellissima mostra che parla della storia della cultura italiana, della cultura cinematografica, ma anche dell'ingegno italiano di costruire anche macchine che servono, che sono servite e servono ancora per poter montare i film in tutto il mondo.